E invece Ilari davanti al portiere di Sillustro, dove tira Ilari? Sì, è stata un'occasione decisiva, importante, è stato un peccato perché sono arrivato un po' col passo lungo, l'ho vista diciamo all'ultimo perché l'hanno spizzata, ci ho creduto lì al limite, però sono arrivato appunto col passo lungo, non sono riuscito a tenerla bassa e si è alzata un po' troppo, mi ha girato verso l'esterno e è stato davvero un peccato. E i difficoltà lì al centro campo? Ma no, io direi di no, nel senso che la partita secondo me era equilibrata se non ci fosse stato il gol al primo minuto che ci ha un po' condizionato e ha condizionato un po' tutto l'andare della partita. Conclusione domenica sul turno? Ma cercheremo di onorarla come giusto che sia, cercheremo di entrare, adesso non ho visto la classifica, comunque cercheremo fino all'ultimo di entrare all'interno dei nove primi posti per la Team Cup, perché è un obiettivo a cui tiene il Presidente e a cui teniamo anche noi, e cercheremo di dare il massimo per raggiungerlo. Cosa dici dal Presidente? Probabilmente inserocito, non c'era oggi ma probabilmente... Sono d'accordo con lui, lo siamo tutti perché davvero è stata una partita brutta, è stato un peccato perché potevamo, insomma, con la tranquillità della salvezza fare una bella partita, divertirci e invece questo gol all'inizio e poi l'andare della partita ci ha penalizzato. Diciamo che mi hanno fatto divertire gli avversari. Divertire, insomma, loro sono stati caricati anche dal loro pubblico che li ha insultati, avevano grandi motivazioni e si è visto, insomma.